Sull'impianto complessivo di questa legge di stabilità che contiene gli elementi, i passi che vengono accennati sono sicuramente nella direzione giusta e noi riteniamo siano profondamente insufficienti le dimensioni di questi passi, la velocità e le dimensioni, peraltro è un messaggio che noi già da un po' di tempo stiamo mandando e non ultima esprimeremo anche la preoccupazione che la legislabilità possa uscire dal passaggio parlamentare profondamente cambiato da quello che invece è un impianto di base che è tutto sommato dai condivimenti.